Un ex terrorista, nonostante abbia scontato la pena, quindi diversamente dalla Saraceni, abbia la possibilità di accettare il reddito di cittadinanza. Io dico subito una cosa, il vero scandalo per me non è Etro, è chi ha fatto la legge. Questa è la verità, chiariamolo. Poi Etro ne usufruisce, ma se dobbiamo andare a monte ci dovremmo indignare col governo giallo-verde che nonostante sia Fratelli d'Italia sia un collega di Forza Italia avessero presentato gli ammendamenti e dicevano attenzione, pensateci perché se no rientrano dei reati orribili.